Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI per viabilità esterna che non riceve traffico rallentato tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Personale su strada per lavori segnalato tra Interporto Toscano Est e il video per la A12 in direzione Firenze. Sulla A1 fare attenzione per un veicolo in avaria segnalato tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Ricordiamo che stanotte per lavori notturni sarà chiuso in uscita per chi proviene da Bologna e da Roma allo svincolo di Firenze Scandicci. Chiudiamo con i treni per i danni dovuti al maltempo la circolazione tra le stazioni di Marradi e Faenza e sospesa fino a domenica 6 ottobre attivato un sistema di bus sostitutivi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!